Un abbraccio a due e a quattro zampe, ma anche con le ali, con le squame, con le branchie, la felicità in una serie di storie del cuore, quelle che uniscono uomini e animali e che saranno le assolute protagoniste del Pet Carpet Film Festival, kermesse cinematografica internazionale e solidale dedicata al mondo animale. Il 28 e il 29 settembre 2024 alla Casa del Cinema di Roma saranno presenti la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, l'ANAS e la FNOVI per sottolineare il valore dell'inclusione, tema centrale della settima edizione dell'evento ideato dalla giornalista Federica Rinaudo, che ne cura anche la direzione artistica. Legami indissolubili, gesti d'amore e atti eroici per la rassegna organizzata dall'omonima associazione Pet Carpet la cui regia porta da tempo la firma dell'attore Pietro Romano. Un festival nato per raccontare l'impegno dei volontari di numerose associazioni, le difficoltà quotidiane dei pet meno fortunati e le storie degli eroi a quattro zampe impegnati nelle operazioni di soccorso.